Saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un volume molto interessante, Geomanzia IV-V di Guglielmi de Morbeca, a cura di Elisa Rubino, appena pubblicato dalla Sismel e per sapere di che cosa stiamo parlando noi abbiamo Elisa Rubino che ce ne parla, ci racconta che cos'è questa geomanzia o geomanzia o come diavolo si pronuncia ancora, non ne ho parato, ma io le lascio subito la parola perché ce lo dica lei nel modo corretto, prego Elisa, lei. Innanzitutto la ringrazio per questa opportunità, ringrazio lei e l'Associazione Italia Medievale, vediamo un po' di cosa si tratta, questo volume a cui lei faceva riferimento è il secondo di due pubblicati rispettivamente nel 2021 e nel 2023 dalla casa editrice Sisma e le edizioni del Galluzzo Firenze per la serie del Corpus Philosophorum Medievi, testi e studi. L'edizione della geomanzia di Guglielmo di Morbeca, geomanzia appunto in latino, è parte di un progetto che è stato avviato nel 2011 e che ha visto la collaborazione di tre università italiane, l'Università del Salento presso la quale io lavoro, l'Università di Bari e l'Università di Trento. Il progetto finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Italiana aveva come oggetto, come titolo, prevedere gli eventi e dominare la natura modelli di razionalità operativa e circolazione della conoscenza nel Medioevo arabo, ebraico e latino. L'Università del Salento aveva un'unità allora guidata dalla professoressa Alessandra Beccarisi. Io mi sono occupata dell'edizione del testo della geomanzia di Guglielmo di Morbeca, penitenziere papale, arcivescovo di Corinto, noto traduttore delle opere di Aristotele e non solo, morto nel 1286. E quello che oggi presenterò è il risultato di questo lavoro di edizione critica che appunto si articola in due volumi e che per la prima volta dà alle stampe un'edizione critica di un testo di geomanzia latina medievale. Ma prima di tutto vediamo che cos'è la geomanzia medievale, o la geomanzia in generale perché non è così scontato sapere di cosa si tratta. Nel XII secolo il grande movimento di traduzione di testi dall'arabo e dal greco in latino portò alla costituzione di una nuova e ampia biblioteca scientifica nell'Occidente latino ed introdusse anche una nuova concezione della natura profondamente razionale e pertanto prevedibile e persino controllabile attraverso competenze teoriche e strumenti operativi nuovi. Tal'evento introducendo un corpus di scritti astrologici, ermetici, alchemici fino ad allora rimasti sconosciuti come anche testi di magia e di divinazione determinò una nuova considerazione, una nuova concezione anche delle arti predittive quindi delle arti divinatorie. Non si trattava più soltanto di un sapere soprannaturale, irrazionale ma di un tipo di vera scienza o di un tipo di scienza ovviamente utilizzando questo termine con attenzione, non certamente secondo i criteri che oggi nel 2023 noi consideriamo validi ma pur sempre un tentativo di pensiero scientifico basato quindi su un metodo, su una riflessione che pensava di poter costruire e di consolidare un vero e proprio modello operativo. In effetti basta pensare alla medicina che allora era comunque una forma di scienza e di pratica. La medicina infatti su cosa si basava? sulla capacità o sulla pretesa sull'ipotesi di analizzare alcuni segni, i segni della medicina, del morbo e attraverso quelli cercare di mettere su una terapia, una terapia che consentisse al medico che sapeva interpretare correttamente quei segni e che conosceva l'arte medica, che conosceva quindi la medicina, interpretarli e mettere su una terapia che potesse guarire il malato e salvargli persino la vita. E come la medicina anche la divinazione implicava un forte legame tra mondo sublunare e corpi celesti. Basti pensare che per esempio alcune terapie non potevano essere o erano sconsigliate in determinati giorni, c'erano giorni invece propizi per avviare una terapia medica. Ecco l'influenza dei corpi celesti come per la medicina anche per le arti divinatorie gioca un ruolo fondamentale e la giovanzia era un tipo di divinazione all'interno del panorama delle arti divinatorie particolarmente complessa ma altrettanto interessante proprio perché è fortemente ancorata ad una conoscenza, ad un mondo che era legato al sapere astronomico e astrologico. Questa scienza, questa arte, questa pratica che noi chiamiamo ancora oggi geomanzia ha un'antica tradizione, molto probabilmente proviene dal mondo arabo, dove veniva definita, dove era definita scienza della sabbia. È infatti una tecnica che consente di formare 16 figure geomantiche a partire da linee di punti tracciati sulla terra, sulla sabbia o sulla carta o in generale su una superficie piana. Vedremo poi un pochino come funziona, cercheremo di capire insieme come funziona praticamente. La geomanzia era utilizzata per predire eventi futuri di varia natura. Il geomante era guidato dall'influenza naturale degli astri e così poteva rispondere alle domande del consultante, domande che riguardavano questioni specifiche che però toccavano gli ambiti più vari della vita privata e pubblica dell'uomo medievale, sia dell'uomo comune, sia dell'uomo politico o dell'ecclesiastico. Quindi andiamo, adesso poi vedremo l'elenco delle questioni, una parte dell'elenco delle questioni poste al geomante. Le domande riguardavano la vita, la morte, la vita dei propri cari, la stessa salute della donna o dell'uomo che si rivolgeva al geomante o che era vicino a colui che si rivolgeva al geomante. Ci si chiedeva se la propria donna fosse incinta, se aspettasse due gemelli, se aspettasse un maschio, se aspettasse una femmina, oppure si chiedeva al geomante se convenisse o meno avviare un'attività commerciale in un dato giorno, se convenisse mettersi in mare quel dato giorno oppure no. Quindi anche le condizioni atmosferiche, meteorologiche più in generale, nell'accezione aristotelica. Quindi tutta una serie di questioni che appartenevano alla vita quotidiana dell'uomo e che ponevano un problema per l'uomo che cercava in questo mondo, occulto nel senso di ignoto, di muoversi e in qualche modo di difendersi da fenomeni naturali che potevano mettere a rischio la sua vita. Questo per quanto riguarda la vita quotidiana, ma poi ci sono altre domande che vengono poste riguardo alla chiesa, al sacerdozio, al potere che viene gestito, alla ricchezza, eccetera, sono tante le persone che sembrerebbero costituire il pubblico di riferimento della geomanzia e del geomante. Antichi testimoni in lingua latina di questa pratica sono l'estimaveruntindi, esplicitamente condannato nel 1277 dal vescovo di Tampier, Palazzo e Zavattero su questo hanno scritto molto, e l'Ars Geomanzia di Ugo di Santalla, che pare essere il primo ad aver introdotto la geomanzia nel mondo latino medievale. Ma ora, ripercorrendo il testo di Guglielmo di Murbeke, proviamo a capire come questa tecnica veramente funzionasse. Anticipo che non è cosa semplicissima, i meccanismi sono complessi, le conoscenze che bisogna avere, che il geomante doveva possedere, sono di carattere tecnico, sfuggono a volte effettivamente alla nostra comprensione, perché Guglielmo di Murbeke, come Alessandra Beccarisi ha spiegato nel saggio critico che è contenuto nel primo volume dell'edizione della geomanzia di Guglielmo di Murbeke, da me curata. Un saggio critico ampio e dettagliato che fa molta chiarezza riguardo alla tradizione della geomanzia e in particolare sul trattato della geomanzia di Guglielmo di Murbeke, che lì all'interno di quel saggio a cui io stessa attingo oggi per cercare di spiegare un po' come funziona la tecnica geomantica, noi troviamo un tentativo molto ben riuscito di mostrare il funzionamento della tecnica geomantica in generale e della geomanzia di Guglielmo in particolare. Ecco, la pratica divinatoria geomantica quindi si realizza rispondendo, o meglio, la pratica geomantica prevede prima di tutto che il consultante, cioè colui che vuole avere una risposta, si rivolga al geomante, colui che è capace di praticare l'arte geomantica. Dico capace perché il geomante non è soltanto un esecutore, è un tecnico estremamente capace di praticare quest'arte, ma che come vedremo rappresenta anche uno strumento nelle mani degli influssi celesti. Infatti cosa fa il geomante quando il consultante va da lui a porgli una questione? Il consultante getta i punti. Ora provo a condividere lo schermo per farvi vedere un attimo praticamente cosa voglia dire gettare i punti. Quindi come possiamo vedere nella prima immagine, vedete una serie di punti e linette, giusto? Ora, questo, quello che vedete è la rappresentazione pratica del cosiddetto getto dei punti, cioè il consultante pone la questione al geomante e il geomante getta i punti, traccia cioè su una superficie piana, come avevo detto prima, quattro serie di quattro righe di punti e lo fa andando da destra a sinistra secondo il movimento celeste e lo fa senza contare il numero dei punti gettati, cioè segnati. Il numero dei punti per ciascuna riga sarà, come vedete, pari o dispari. Le figure geomantiche fluiscono sulla Terra dalla configurazione astrale celeste al momento della consultazione. Ecco perché la volontà del geomante o del consultante non deve influenzare il getto dei punti. In questo momento il geomante è espressione di questa influenza dei corpi celesti e segna una serie, come vedete, di punti, quattro serie di punti fatte da quattro righe. Il passo successivo è accorpare i punti in coppie di due. Ne resterà, quindi, sempre partendo da destra e andando verso sinistra, ne resteranno o due o uno soltanto di punti. Se la serie di punti, cioè, è pari, resteranno due punti finali. Se la serie di punti e dispari resterà invece un solo punto. Cosa vediamo a sinistra di questa immagine, dove c'è scritto uno, due, tre e quattro? Vediamo il risultato di questo accorpamento, accoppiamento di punti. Come e così via nelle linee successive. Ma se andiamo alla seconda figura, una linea di punti dispari ha lasciato fuori un unico punto non accoppiabile con gli altri. Questi punti finali, che vedete accanto al numero primo, secondo, terzo e quarto, costituiscono le figure geomantiche. una figura geomantica, ogni figura geomantica, è il frutto di questo accoppiamento di punti per serie di quattro righe e, come vedete, quindi la figura geomantica è composta da quattro, diciamo così, dimensioni. Ora, siccome le combinazioni di punti pari e di punti dispari possibili sulle quattro righe sono sedici, sedici saranno anche le figure, ciascuna costituita da un codice binario di punti disposti su quattro linee. Si formano così le prime quattro figure, come vedete, uno, due, tre e quattro. Da queste quattro, che si chiamano figure madri, verranno generate le quattro figure figlie. Ora, il meccanismo non è tanto semplice da praticare e neppure da comprendere, ma proviamo a vedere soltanto come viene generata la prima delle figure figlie dalla serie di quattro figure madri. Come vedete nella prima immagine che ora sto mostrando, dai punti che sono proprio in cima a questi rettangoli viene generata la quinta figura, che è appunto la figura figlia. Ora, andando avanti così, io non mi dilungo troppo su questo perché poi non ci interessa tanto, vorrei soltanto dare un'idea di come funziona questa tecnica, vengono generate quattro figure figlie, quattro figure nipoti, due figure testimoni e un giudice, che vanno ad essere inserite in questa immagine che ora vedete e che viene comunemente conosciuta come scudo geomantico. Si tratta di 16 riquadri all'interno dei quali le figure geomantiche che il geomante ha tracciato, ha formato in seguito al getto dei punti, vengono inserite e questa è di fatto la raffigurazione grafica della risposta che il geomante offre alla domanda che il consultante ha posto. Come vedete ci sono 16 figure e sono appunto le 16 figure che vengono fuori dal getto dei punti e dalla combinazione dell'iniziale getto dei punti. interrompo un attimo la condivisione perché non voglio mostrarvi ulteriori immagini. Penso di aver dato la dimensione di quanto questa tecnica non sia proprio semplicissima. E sebbene Guglielmo di Murbeche abbia scritto, secondo o diciamo allineandosi ad un'antica tradizione, che la geomanzia è stata inventata per esemplificare l'arts astronomia, troppo complicata, basata su calcoli che non tutti possono riprodurre, ecco, sebbene lui abbia scritto questo, noi abbiamo un po' forse l'idea che poi la pratica di per sé è molto complessa e nel trattato di Guglielmo di Murbeche noi abbiamo la possibilità di navigare all'interno di questo complesso di regole, di calcoli, di possibili errori che il geomante deve ben conoscere e ovviamente ben rispettare. L'errore infatti è dietro l'angolo e potrebbe inficiare il risultato di tutto il procedimento e offrire al consultante una risposta errata e dunque anche pericolosa dal loro punto di vista. Ora, a chi si rivolge alla geomanzia? Sicuramente noi sappiamo che proprietari dei manoscritti geomantici che peraltro erano molto diffusi e che documentano un grande interesse tra tardo, medioevo e rinascimento sono principi chierici ed intellettuali. E quali sono le sfere di applicazione della scienza geomantica, un pochino l'ho già detto, cioè sono tutti quegli ambiti che toccano la sfera del potere politico ed ecclesiastico ma anche le condizioni meteorologiche, le condizioni di salute, la prosperità delle attività commerciali ed economiche, i più disparati ambiti della vita privata, amore, gravidanza, ricchezza e nemicizia, quindi della vita privata ma anche della vita pubblica. Quindi come vedete il pubblico ideale di riferimento di questa tecnica è un pubblico vastissimo, è l'uomo comune medievale ma è anche l'uomo pubblico di un certo livello, che rappresenta una certa, un certo gruppo sociale. Se andiamo a dare uno sguardo ora un pochino più attentamente al nostro testo contenuto appunto in questi due volumi, noi vedremo che l'opera è una compilazione composta di otto sezioni, quindi un testo abbastanza lungo, sezioni che Guillermo definisce particole e un'opera che è tramandata per intero da quattro manoscritti soltanto e in modo incompleto da undici codici. Quindi abbiamo 15 manoscritti in totale, 3 conservati ad Erfurt, 1 a Erlangen, 1 a Firenze, 2 a Kassel, 3 a Monaco, 3 a Vienna, 1 a Wolfenbüttel e 1 a Würzburg. Come vedete un'ampia diffusione che sicuramente dimostra un certo interesse per questa tecnica e d'altronde ci sono anche dei volgarizzamenti che noi conosciamo, ce n'è uno per esempio in italiano, che dimostra appunto che era qualcosa a cui i medievali erano interessati. Inoltre 13 manoscritti che tramandano il testo indicano esplicitamente l'autore in Guglielmo di Murbeke. L'elenco di codici documenta una notevole diffusione dell'opera di Guglielmo, si tratta di una diffusione che attraverso più di tre secoli e che si estese all'area mitteleuropea, alla Francia, all'Italia e all'Inghilterra, come mostrano appunto, come dicevo, anche traduzioni e rielaborazioni in lingua volgare. L'interesse per questo testo fu dunque grande tra Tardo Medioevo e Rinascimento e anche sei contratti particolari, perché come dimostra un'analisi dei manoscritti e come dimostra il fatto che solo quattro manoscritti tramandino il testo nella sua interezza, la tradizione all'interno della quale si iscrive la ricezione del testo della Giovanzia di Guglielmo, non è quella canonica universitaria, ma piuttosto quel complesso di scritture pragmatiche, di letteratura di erudizione, che conosce una sorta di esplosione nel Tardo Medioevo, sia in ambito del latino che nell'ambito dei volgari nazionali. Si tratta di opere enciclopediche, di scienze della natura, di scritture magico-alchemiche, di sillogi di ricette mediche, di testi di spiritualità, di prediche, di raccolte di vite e dei santi. In effetti i copisti non dimostrano grande interesse a ricopiare l'intero testo, ma a ricopiare parti del testo, molto probabilmente quelle parti che venivano considerate dal committente più interessanti. Quindi c'è anche proprio un tentativo di, non dico di uso, ma sicuramente di appropriazione di questo testo, non solo per conservarlo, ma proprio per conoscere l'arte geomantica. La stessa situazione è stata riscontrata nell'ambito delle altre edizioni degli scritti geomantici che fanno parte del progetto di cui parlavo all'inizio, cioè avviato nel 2011, prevedere gli eventi e dominare la natura. In particolare l'estima Veruntindi e l'arts geomantica tradotta appunto da Gugo di Santalla, tanto per rendere la situazione più comprensibile di quanto questo testo sia scivoloso e subisca delle modificazioni nella tradizione manoscritta. Nel caso della geomanzia di Guglielmo, su 2500 parole collazionate in 9 codici su 15, corrispondono ben 1100 varianti. Come si capisce quindi un testo che ha un interesse anche dal punto di vista proprio della tradizione testuale, perché è una tradizione particolare non esattamente canonica. L'edizione per questo offre il testo della geomanzia di Guglielmo di Murbe, che è particolare prima ottava, secondo la forma di un codice, che è il codice cassellano, un codice conservato a castle presso l'Universitets Bibliothek. Un codice particolarmente curato, che offre il testo ovviamente nella sua forma completa e che mostra anche una cura da parte del copista perché le iniziali sono colorate di rosso, ci sono i titoletti che vengono colorati, messi in rosso dal copista, evidenziati in qualche maniera, quindi una grande cura e anche ovviamente un buon testo. Questo testo di riferimento è poi stato collazionato e corretto in caso di manifesti errori con un secondo testimone integrale del testo, che è il codice conservato a Volpebuttel presso la Herzog August Bibliothek. La geomanzia è introdotta da due proemi, un prologus maior e un prologus minor, molto interessanti per comprendere un po' la tradizione anche di questo testo, ed è suddivisa in otto particole, parti. A loro volta le parti sono suddivise in distinzioni e le distinzioni in capitoli. Come vedete quindi siamo davanti ad otto sezioni, ad un testo piuttosto lungo e anche a una suddivisione che dà un po' la misura della complessità dell'argomento trattato. Per concludere farei un riferimento soltanto alla tradizione di questo testo. Nel proemio alla Exposizio Superteorica Planetarum Gerardi di Taddeo da Parma, professore nella Facoltà delle Arti all'Università di Bologna nel 1318, troviamo una analitica classificazione delle discipline matematiche. Ogni matematica, ogni ambito è poi seguito da ampi riferimenti bibliografici. Il testo è stato pubblicato nel 1994 da Graziella Federici Vescovini, in un articolo che però è rimasto un pochino senza eco e che però a me pare invece interessante perché fa riferimento proprio al nostro testo, alla geomancia di Guglielmo di Murbeche e quindi è interessante anche per la tradizione, per la diffusione del nostro testo. Infatti Taddeo da Parma colloca la geomancia nella matematica impropria e dictativa e proibita, sezione mantica, e tra i testi bibliografici citati come a corredo appunto di questa parte della matematica, Taddeo da Parma cita proprio il trattato della geomancia di Guglielmo di Murbeche, esplicitamente attribuendolo al noto traduttore Guglielmo di Murbeche. La testimonianza di Taddeo da Parma, che appare ben informato quindi sulla letteratura geomantica che circolava al tempo, dimostra che il testo di Guglielmo di Murbeche circolava in ambito bolognese nei primi decenni del 300 e circolava sotto il nome di Guglielmo e questo è forse una notizia che può anche fare chiarezza sulla tradizione e la diffusione di questo testo ancora nel XIV secolo. È davvero interessante anche perché si pongono tante questioni sull'uomo medievale, sul suo desiderio di conoscere le risposte a tutti i quesiti che la vita sottopone, sulla diffusione, sull'idea forse che quanto più difficili e complicate sono gli strumenti di indagine, tanto più scientifica può essere la risposta. Aprirebbero tante discussioni e tanti interessi, quindi è stato davvero molto interessante ascoltarla e a questo punto io non posso far altro che ricordare il titolo e invitare tutti ad andarsi a comprare il volume. La romanzia di Guglielmo de Morbeca, a cura di Elisa Rubino, appena pubblicato dalla Sisma in Firenze e che io consiglio a chiunque si voglia fare un'idea diversa da quelle a cui siamo abituati relativamente al nostro amato Medioevo. La ringrazio davvero tanto di questa presentazione e a tutti gli utenti ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove troveranno insieme a questa anche tutte le altre presentazioni che abbiamo realizzato in questi tempi. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.